Buongiorno a tutti e grazie dell'invito a partecipare a questo importante incontro sul distillato di legno. Riportiamo le nostre esperienze per la campagna produttiva 2020 per due culture particolari, il ciliegio e l'olivo. Abbiamo preso degli appesamenti rispettivamente per le due piante e siamo andati ad effettuare delle prove su trattato e non trattato. All'interno degli appesamenti trattati siamo andati ad individuare anche delle piante non trattate in modo da dare la possibilità al ditero di spostarsi su queste nel caso che il trattamento con il distillato di legno andasse a portare dei disturbi ai diteri e in effetti durante l'attività di aspersione del distillato di legno si era notato che i diteri sia della mosca dell'olivo ma anche dell'atrosofila suzuki disturbati da questo prodotto si andavano a posare su queste piante che abbiamo chiamate attrattive e su queste piante attrattive una volta riscontrata la presenza di questi due parassiti siamo andati a trattarli con dei prodotti adulticidi e larvicidi. Naturalmente sia le olive che le ciliegie delle piante trattate non sono state utilizzate né per la trasformazione in olio né per il consumo fresco e i riscontri che abbiamo avuto sono stati rispetto al non trattato delle minori infestazioni sia di mosca dell'olivo che anche di diterosofila suzuki. A cosa sia dovuto questo? Con molta probabilità il disturbo che danno i componenti del distillato di legno fanno allontanare questi due diteri e inoltre abbiamo anche verificato la bontà dei due prodotti dell'olio ottenuto dagli olive e da un'analisi sensoriale delle ciliegie che sono state raccolte. La varietà delle ciliegie utilizzate è stata la mora di Cassano e l'abbiamo trovata più croccante e più dolce. Cosa si è successo all'interno delle piante di ciliegio? Già da alcuni anni che noi utilizziamo questo tipo di prodotto abbiamo constatato che vi è un miglior rigolio vegetativo e con probabilità questo va a portare un maggior deposito di zuccheri all'interno della frutta della ciliegia e va ad indurire l'epidermide dando la possibilità che ci sia una self life maggiore non abbiamo stabilito di quanti giorni ma sicuramente è superiore al non trattato. Per quello che riguarda invece l'olivo abbiamo riscontrato una maggiore presenza di amari e di piccanti. Cosa si è successo anche qui? Con molta probabilità questo rigolio vegetativo è andato a creare maggiore presenza di queste sostanze secondarie all'interno dell'olio polifenoli sostanzialmente l'olio perina e l'olio cantale. Questi due olio perina e olio cantale o questi polifenoli provengono anche questi sia dal metabolismo normale della pianta ma anche da un metabolismo secondario della pianta che va a crearsi questi prodotti proprio per contrastare l'eventuale presenza di parassiti e di questi parassiti anche la mosca dell'olivo dando la possibilità con questo distillato di legno di creare un termine proprio acceleratore della vigoria vegetativa della pianta dell'olivo che è andata a dare una maggiore possibilità alla pianta stessa di crearsi queste sostanze di contrasto ai parassiti. Pertanto si può anche considerare un doppio beneficio primo quello di allontanare il ditero della mosca dell'olivo nel nostro caso ma anche quella di aumentare la possibilità alla pianta di accrescere la sua difesa. Una terza attività è stata quella di valutare l'azione del gestillato di legno nei confronti della rogna dell'olivo. Questa attività oramai dura da circa tre anni e abbiamo visto già dal 2020 della scorsa annata che c'è una minore presenza di rogna dell'olivo nelle piante che abbiamo trattato. Cosa può essere successo? Il distillato di legno potrebbe avere una attività batteriostatica o battericida se posizionato sopra la corteccia dei rami dove noi sappiamo che questo pseudomonas, questo batterio responsabile della rogna dell'olivo può rimanere latente per entrare nel momento in cui si creano delle ferite limitandone quindi la popolazione e con questa una minore possibilità di infezione. La Regione Veneto già da quest'anno, dal 2021, ha finanziato un'attività di ricerca specifica anche per questo distillato di legno assieme ad altre sostanze attive per valutare la loro azione nei confronti sia della mosca dell'olivo e sia della rogna dell'olivo. Pertanto un appuntamento all'anno prossimo in cui andremo a riportarvi i risultati di questa importante ricerca. Grazie e a risentirci.